e siamo alla seconda sulla distanza del miglio questi quattro anni vi ricordo che non corre il numero due mentre su Vigorisaia TRGF Saleraf Palumba mezzo meccanico in movimento corsa che vede un po' Vincent Renato uno dei più gettonati ma è aperta arretrati verdiane Vincent Renato parte piano Vongola via la macchina come una molla va subito al comando Venturone-Jet all'attacco della piegata così Venturone tenta di difendere Biriglia ma vole e va che bel nome che c'ha e poi Vincent Romano predici e non va a partire passa, vuole e va dal nome così non si poteva ottenere altro però ora deve fare i conti con Vincent Renato si completa la piegata e anche il quarto iniziale quarto iniziale che se ne va nell'ordine del 29-3 punta in avanti l'allievo di Forino e con un po' molta spesa voleva andare al comando l'ideale Ruiz va al comando si completano i 600 iniziali nell'ordine del 43 e mezzo da 1-12 e mezzo ora può un po' gestire dopo lo strappo iniziale il leader e conduce liberamente penultima curva si completa il mezzo miglio iniziale nell'ordine del 59-8 16-3 tranquillo impiegata per ricaricare un po' le batterie cavalli di fronte con il Vincent Renato al comando allunga e si distende e va a completare il chilometro nell'ordine del 15-1 500 alla meta poi via da Z a Z si fa notare il 13 di Bites Mabel con il di dentro la vongola curva finale Vincent Renato al comando frazioni interessanti in 15 vanno 1-31 1-3 quarti di miglio si prepara Mitrano con Vlada si completa l'ultima curva Vlada anticipa vongola retta d'arrivo con Vincent Renato al comando tenta lo stacco Vincent ma arriva bomba la vongola questa vongola jet va sui primi e vongola jet spazia a piacimento mentre per il secondo c'è foto stretta ancora una bella affermazione di Guido Saggiamo l'altro giorno l'abbiamo visto con un portacolore dell'oltremare oggi con questa vongola veramente notevole questa pine chip in retta d'arrivo fa un sol boccone 1-59-7 1-14-8 6-68 la vongola non so se è appunto un soté oppure con gli spaghetti linea allo studio